ma sali scusa non devi salire basteranno 32 di vetro si ci sta sai cosa però io l'avrei fatto in pietra perchè qui ci piglia fuoco casa io non me lo rismonto va bene aspetta mi aiuti a fare una cosa guardami se vuoi puoi fare multi un po' e un po' che caffo di merda è multi che multi rgb vuoi fare pfts con la casa non lo so cioè esatto allora dobbiamo installare i parafulmini installare si tu il tecnico della vanilla hai ragione scusa ma io mi no ok mi sembra di averci feather folding sulle cose così puoi togliere le slab vabbè le tolgo io buongiorno sono della sai che non so se qui lasciare tipo un layer di slab buongiorno sasso venga nato buongiorno sono dell'azienda che sta non rompa i perrieri salve sono dell'azienda che spara i parafulmini cosa ho detto ciao marty buonasera salve sono dell'azienda che metti i parafulmini salve posso installartelo nel culo posso installartelo nel culo sono stato chiamato qua per installare un parafulmine salve dovrei installare un parafulmine mi serve le dire se ti piace così si va bene ma devo installare un parafulmine te lo installi in culo per favore va bene vado che cazzo fai vado ok fatto fatto ho fatto ho fatto ti sei sperimentato che sta succedendo cose perché ridi io voglio guardare qua ci sarà un po' di ferro c'è la warden city lì oh ma io mi richiamo l'ancient city io volevo solo del ferro ferro fiero ma è bellissimo qua per fare la piantagione ma non c'è neanche un po' di ferro ma qua è top per fare la piantagione lo sai mettimi lì fai bella gianna che c'è io adesso citerò un canale che lei conosce scheletro di merda non mangi anche un pezzo di ferro il mio sogno è far esplodere qualcosa in questo canele c'è pure benzina pensi bene non in questo modo non è ferro questo vai fuori vai fuori vai fuori volevo solo l'xp dai ma tu l'hai sempre fatto con me io adesso faccio uno due tre salta ancora un picchio senza spada picchiami perché picchiami picchiami grazie ah lui prende fuoco 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 ma se hai provato a cuocere le dove nello smoker si ma da qua te che giochi a minecraft 5 ma da un tempo si poteva ma da quando? solo ai cibi mio ferro snor tieni stai letteralmente qua tutto il tempo finchè non prendi l'xp vero si no perché scambio suga perché perché l'hai aperta prima te quindi non posso no non è vero sasso sasso guardi ah ah guarda che bello girare col cap vai è bellissimo girare col cap sasso però ci serve le sue ferro no si ma sei inutile cioè dai e adenre bocca al mio samra fo oi ma basta con queste lanterne metti qualcosa non è perché io ti ho fatto vedere una lanterna adesso te ne metti 80 se non ti facevo scoprire le lanterne te non le mettevi neanche ma dai possiamo passare di qua se non mi sbaglio ok ho sbagliato il poter bucket allora ma questa parte non l'ho vista neanche io cioè no io si scusa non si vede niente però è più bello così infatti no scusa mi è schiccato uno uno cattivo fortnite ho un cuore ho un cuore ho un cuore non è un cuore sono tre imbecile e puoi aiutare eh cos'è l'aiuto io non lo so io ho mezzo cuore c'è un po' di oro ma che non l'hai detto oro oro dai ma non puoi infilarti nel mio buco e prenderti il d'oro eh no il mio buco ma dai ma mangio perché perché dai io vado in World of Anacitis non so neanche dove sono morto le do una spinta il ferro prendi quello che ti pare così guarda sei contento e dopo sarò molto più contento perché farò una cosa tieni ora gara gara fila salve dov'è sta roba di merda basta di farlo sbordere creeper ferro oh ferro no mio ferro senti prenditelo to vai io vado da su dove per questo che non ti porto da nessuna parte cioè ma mi hai pure ammazzato tre volte oggi ma non mi importa cavoli tuoi se muori come cavoli mie non ti ho mica ucciso io cosa farò ti ammazzo nell'ansien city così non mi devi spadare ma non è colpa mia se c'è un sweeping edge in questo gioco oggi è proprio l'anti l'anti e te rubi tutti i materiali e te rasci diamanti allora e quindi c'è un crimine si no prendami anche quelli adesso ammazza mi rompiamo un spot e ti prendi di quelli quello lo farò dopo vediamo se lo fai eh per forza ti ridò quello che mi dai aspetto rotto e grave rotto scheletro vorrei fare un'armatura no continua a esplodere no quanto duri dove sei bro indietro sì ma io non vedo letteralmente niente devo alzare la brightness troppo quanto ferro hai adesso aiuto aah domanda quanto ferro hai 30 bene ti basta per fare le tue cazze di lanterne perché tanto non ne vuoi più aia dove sei andato scusa uh lo sky ma uno shrieker dove sei andato nel buco ma dove sei andato cosa c'è qua sotto da un zian city dove sei torna su non lo so vuoi tornare su torni su ho una tv ordine io non so non so dove sono ti ho detto ma torna su se ti sei tornando e beh dammi un'idea di dove sei tieni vabbè fai la battuta vieni qua muoviti diamante ci ha piazzato l'acqua ovviamente ci sei già tu lato tutti i diamanti che c'erano qua vero no ovvio ma io qua non ho mai nato diamanti mai nato tanto qui il loot l'avrai già preso tutto quindi non cerco neanche ma è ovvio se ti porto te mi ma sei scemo ma cammina sulla lava perché devi camminare sulla lana ma non fa rumore la lana no ho sneaky ciao creeper buonasera vieni qua aiutami a rompere queste quale questi due no è uno prendiamo le lanterne le candele scusa vieni qua vado a prenderle altre madonna quante ce n'è tanti per questo che principalmente siamo qui ah per prendere tutti i materiali che non ho preso io giusto qua se non mi sbaglio ecco qua vieni qui c'è un po' di fuoco c'è soul sand è la prima volta che vedo la soul sand nell'overworld vabbè spawnata nell'overworld intendo ma questi si prendono solo con silk touch si il fatto è che ho una zappa con silk touch ma che è andata a quel paese quando sono morto tranquillo morirai di nuovo stai venendo sfruttato se proprio vuoi sapere infatti tu verrai ammassato se non oggi domani o quando vedremo qua ci sono altre lanterne prima di romperle controlla che non ci siamo sfritte qua no ecco adesso vediamo se un giorno avrà il coraggio di ammazzare rompere il mio letto ammazzarmi e prendere i diamanti eh sì perché te l'ho fatto di ucciderti rompere no però mi continua ad ammazzare così a caso vabbè ma se non voglio mangiare tu non mi ammazzo ma allora arrivo subito allora vabbè dai candele ne ho abbastanza ah tu continua a pigliare due ventole bro e vabbè quindi non posso abbassarle le lag dopo te le metto a metà così vabbè sentono non più perché stai da te e boh è rivenuto anche tu qua boh giravo io allora oh candela qua la gombotto ah ecco questa cassa mi sa dire che non l'ho lootata infatti qua non c'è nessuno buono la sella swift sneak boh oh qua c'è un thorns buono ma è il mio di prima eh io rubo due dischi non ci servono vieni su questo ci serve come arrivo vuoi swift sniff ma me ne avevi già dato uno ieri che poi te lo sei ciulato tu no ce l'ho io poi quando lo vuoi costa 12 per incertarlo infatti mi servono 12 livelli sto tentando di non morire tanto prima poi ti ammazzo lo sai e gli è morta la cam ma come? ehm qualcuno ha spawnato l'urden no non è spawnato direttamente la tua cam ma lo stavo rompendo io prendi le candele bianche mi metti la cam un attimo sto tentando di fixare sta merda di telefono la combattenti cam io ho finito il pane comunque te quanto ne hai? fermo oh cazzo non lo so mi stai inseguendo vero? sì no dove vai? basta c'ho paura ti metto sopra però c'è lì da qualche parte e quello è un problema ma dai ma un altro sono salito in cima perché ho paura guarda guarda cosa hai in mano no no allora cazzo dove hai il vordine? vò tra o meno si disponerà tanto io come scendo? è qui sotto? lo sai che comunque ti becca lo stesso con l'attacco sonico da lì vero? lo sento muoversi ma non lo vedo ma non è sopra di me ma c'è un warden anche sopra ma ma tutte sti cosi danno xp bello ma non si può fare tre attacchi al ma mi ha fatto quattro attacchi in due secondi what the fuck bro se è rotto il warden si è bagato tutto abbiamo rotto il warden ma ha fatto cinque attacchi sonici in due secondi ah non si può c'è un cooldown di dieci bello we shot ma perché mi salta il cinque? non so come ma io devo uscire di qui aspetta che c'è ancora altro da notare ma io ho paura Sasu non muori tanto Sasu io arrivo subito prendo una va bene tra poco rientro quando? non devo arrivare lì non mi sente vero? oh no shrieker oh no riuscirò ti ho uno squid ce ne sono due no si fanno spawnare il warden oh l'erk no madonna ce la faccio ad arrivare lì ok ah forse ce l'abbiamo fatta ole bene adesso vediamo se c'è qualche diamante oh lapis diamanti zero eh cagati in mano qui c'è un altro pezzo di ancient city se io mi butto ma non c'è proprio niente neanche un diamante che merda però lì ci sono delle chest vorrei scendere a prenderle non c'è nessuno torce skulk una zappa delle bottiglie di esperienza tutti questi li scavo tanto danno xp vabbè così può bastare dai e la terza chest ah eccole qua dietro shrieker niente bene sono dei pantaloni scudo pala qua un'altra bottiglia di xp regeneration questo è buonissimo qui un'altra altre boccette no dai mia lanterna che pieno di regeneration madonna basta far rumore voi di qui che c'è? nulla qua sono nel punto di prima ma il sasso dove cazzo è andato? potrei anche risalire che comunque non è una brutta idea dove è che era per risalire? qua? oh c'è una chest vuota da dove sono arrivato? lì c'è una chest ma ci sono due shrieker cazzo però voglio prenderle allora dobbiamo scendere oh no ah perché? eccolo non mi prendi da qui vero? se gli faccio collare la lava in testa no no non è una buona idea forse è meglio se si conclude qua cosa succederà perché io ho paura vedremo nel prossimo episodio se sarò morto o no buonanotte